La seconda conferenza mondiale sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea vuole essere un momento in cui si mettono insieme aspetti che forse fino a ora erano stati poco considerati che sono quelli sicuramente della sostenibilità non soltanto ambientale ma anche dei consumi, della sicurezza alimentare, della salute, questo sicuramente c'era già, e della sostenibilità. Questi aspetti sono oggi trattati all'interno della conferenza da massimi esperti dell'euro mediterraneo e questo vuole essere non soltanto un momento di sintesi, di discussione, di dibattito ma anche un momento per riuscire a creare una piattaforma multistakeholder, quindi multidimensionale che serve e che rimanga anche nel futuro della nostra regione come punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo. Grazie.